In questo caso un fenomeno, un evento che coinvolgerà la città di Milano, quello di Expo 2015, in cui è previsto un largo utilizzo di volontari per informare i visitatori, per dare loro consigli, assistenze, servizi, quindi per rendere più gradevole, più efficace, più funzionale la visita a Expo. Questa è una grande occasione anche di apertura di Milano al mondo su temi che sono assolutamente funzionali con lo spirito del volontariato. In questo contesto credo che sia importante e meritevole di attenzione questa iniziativa e sulla scorta di esperienze concrete io posso dare volentieri, cioè non solo, come dire formalmente, la disponibilità a concordare, a partecipare alla estensione e al funzionamento di questo progetto che in effetti colma una lacuna. Grazie. 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 Grazie.